Che diamine era quello, Grey? Non lo so, non l'ho mai visto negli iubi. Dobbiamo tornare da zia Claire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, e quello cos'è? Grazie a tutti. Questa non credo di averla ancora raccontata. Zia Claire manderà qualcuno a cercarci. Possiamo aspettare qui. Ci troverà. Non lo farà. Smettila. Avanti. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Puoi darmi una spinta? Vedo uno snack sugli altri scaffali. Posso arrivarci dal condotto. Aspetta un attimo. Preso. Credo gli piaccia. Ho trovato della carne. Non so davvero se sarà ancora fresca. Mi sembra che stia già meglio, Zack. Aspetta un attimo. È buio pesto qui. Tranquillo, ci penso io. Ecco, va meglio. Sì. 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 Questo non me l'aspettavo. Spero che basti. Sì, basta. Sta già meglio ora. Ah, fantastico. Ora vuole seguirci. Dove sta andando? Sì. 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 Gli piacciamo Credo Ok, sali e scavalca, Gray Già, non funzionerà mai, non senza un motore e la ruota anteriore E della benzina, forse Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. No. Solo la guida. No. 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 Il suo tracciatore è impiantato. L'ha tolta con gli artigli. Sono riusciti a uscire. Lo senti? Come hanno messo in funzione uno di questi? No. No. È tutto ok. Non credo che sappia come entrare qui. Sapeva come spingerci a farlo uscire. No. 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 Grazie a tutti. C'è qualcosa qui. Bene, useremo questa roba per arrivare laggiù. Come va l'equilibrio? Bene, almeno spero. Bene, useremo questa roba. Bene, useremo questa roba. Bene, useremo questa roba. Bene, useremo questa roba per arrivare laggiù. Oh, gah! Va bene, aspetta qui Ho trovato una manovella Sul montacarichi Fai pure con comodo Bene, occhio là sotto Tutto bene, sei al sicuro? Per ora Riesci a spostarla dalla tua parte? Ci provo Riesci a spostarla Riesci a spostarla La cavi nel libro Forza, presto! Per ora Riesci a spostarla Impostarla Tira Fai No, no, no. Ah... Ah... Uff... Chiama l'ACU. Di che mandino tutto quello che hanno. Lowery! L'abbiamo trovata, a sud della valle delle girosfere. Aspetta, stai seguendo il dinosauro? Sì! Porta qui l'ACU. Alla prossima. Alla prossima.